Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. La quinta puntata di Temptation Island, prevista eccezionalmente per mercoledì, promette rivelazioni scottanti e momenti di alta tensione. I fan del reality show non possono assolutamente perderla, poiché saranno svelati nuovi sviluppi per la coppia formata da Lino e Alessia, dopo la loro separazione e l'abbandono del villaggio. Inoltre, le vicende di Luca, in attesa del falò finale con la fidanzata Gaia, e le lacrime di Raoul, terranno tutti con il fiato sospeso. La quinta puntata sarà incentrata sulle vicende di Gaia e Luca. Al termine della quarta puntata Luca ha chiesto un falò di confronto immediato, amareggiato dai comportamenti di Gaia. Ora bisognerà vedere se Gaia si presenterà all'incontro con il fidanzato, oppure deciderà di prolungare la sua permanenza nel villaggio delle tentazioni per schiarirsi le idee. Nel frattempo Raoul continua a mostrarsi in lacrime nel villaggio, ma resta il mistero se il motivo sia legato agli atteggiamenti provocanti della sua fidanzata con uno dei tentatori del programma. Le anticipazioni rivelano che si tornerà a parlare anche di Alessia e Lino, protagonisti di un acceso confronto nella quarta puntata. Alessia, dopo aver visto Lino in atteggiamenti intimi con una tentatrice, ha deciso di porre fine alla relazione. Tuttavia nella nuova puntata, Filippo Bisciglia ha annunciato che ci saranno nuovi risvolti per questa coppia. Le immagini mostrano Lino che torna alla postazione del falò di confronto, probabilmente per un ulteriore chiarimento con Alessia. Non sarà l'unico appuntamento della settimana per Temptation Island. Il reality show chiuderà i battenti con una sesta e ultima puntata giovedì. Questa doppia puntata condurrà al gran finale di un'edizione seguitissima, con una media di circa 3,5 milioni di spettatori a settimana prevista eccezionalmente per mercoledì 24 luglio e picchi di Sher fino al 45%. Che ne pensate? Vi è piaciuta questa edizione di Temptation Island? Oppure si poteva fare di meglio? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!